La corruzione costa la collettività italiana tra i 20 e i 30 miliardi di euro all'anno, un cancro, come lo definisce il Movimento 5 Stelle, che va combattuto a partire dal livello più basso, quello degli enti locali. Da questa considerazione nasce la proposta grillina anticorruzione per la regione Abruzzo, articolata in 13 punti, si condensa nella richiesta di istituzione di un ufficio per la trasparenza e l'anticorruzione che, senza costi aggiuntivi parlente, si è in grado di far rispettare le direttive dell'ANAC nell'analisi dei fenomeni corruttivi, anche affiancando il responsabile della prevenzione della corruzione. Un ufficio aperto anche a magistrati in pensione e forze dell'ordine, spiega Pettinari, oltre che a consiglieri regionali. Per noi bisognerebbe istituire un ufficio per la trasparenza e l'anticorruzione, per appunto prevenire il fenomeno, arginare il fenomeno, supportare il responsabile della corruzione e soprattutto per intervenire sui processi amministrativi, perché dov'è che si annida la corruzione? Un processi amministrativi che dovrebbero durare un anno, tante volte durano 10-15 anni. Abbiamo fatto uno studio e secondo le normative anticorruzione è venuto fuori che la regione Abruzzo non ha pubblicato entro il 31 gennaio 2017, non ha adottato il piano per la prevenzione della corruzione 2017-2019, come da legge. Abbiamo presentato appunto un esposto all'autorità nazionale anticorruzione per verificare se ci siano state inadembienze e quindi anche sanzioni nei confronti dell'organo di indirizzo politico. Alla proposta dei 5 Stelle ha risposto Cristina Gerardis, responsabile regionale della prevenzione della corruzione, che in una nota ha voluto precisare che l'autorità anticorruzione per gli enti che trovano sede legale nei territori colpiti dal sisma, ha disposto una proroga fino al 30 luglio 2017 di diversi adempimenti, che esclude quindi la sussistenza di un ritardo rispetto all'adozione del piano anticorruzione.